L'ultima volta che sono andato dal medico mi ha prescritto uno spray nasale e mi ha detto vedi di usare questo spray se vuoi stare bene. Ora, Gesù nel Vangelo di oggi guarisce un uomo che da 38 anni non riusciva più a camminare e poi gli dice due parole che suonano più o meno così vedi di non peccare più se vuoi stare bene. E' uno strano medico questo Gesù. Il mio dottore non mi ha mai parlato di evitare peccati per stare bene. Per Gesù invece la nostra salute è buona proprio quando siamo liberi dal peccato. Che facciamo? Prendiamo appuntamento con questo dottore che sembra sapere il fatto suo e ci facciamo curare da lui? Lui guarirà cuore, anima, lavando ogni macchia che ha sporcato, mente, parole e gesti. E staremo meglio in tutto. Il suo perdono ricevuto nella confessione farà nuove tutte le cose. Grazie.